Il Corpo Forestale dello Stato, durante un regolare controllo in località Piano Prececchia di Vigianello, Potenza, ha fermato quattro persone di nazionalità romena denunciandole per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti. Il controllo si è svolto all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino, dove i quattro, due uomini e due donne residenti in campagna, sono stati colti mentre caricavano del materiale ferroso su un autocarro senza le necessarie autorizzazioni e nelle vicinanze di alcune abitazioni. L'accusa nei loro confronti si è aggravata dal momento che questi non sono riusciti a dimostrare la tracciabilità di altri rifiuti trovati nell'autocarro che stavano utilizzando.